La cartiera di Pietrabona ancora oggi è fatta da montagna, cartiera, fiume, questo è rimasto intatto. 150 anni della nostra azienda ha un traguardo straordinario, fatto di competenza, di volontà, di passione. Questo giare 150 anni per noi è molto importante, le cartiere Cardala sono partite tantissimi anni fa. Diverse generazioni sono susseguite da quel 1873 ad oggi, soprattutto la generazione precedente alla nostra ha fatto fare quel salto di qualità. Una cartiera che nel tempo si è modificata molto. Si passa da una fase artigiana a un'avventura industriale molto strutturata, molto pensata. Dopo la cessione del vecchio gruppo alla multinazionale svedese, la voglia di rimettersi in gioco era forte. Abbiamo cominciato a ricomprare macchine, a ricomprare alcune delle cartiere che avevamo vendute. Poi abbiamo comprato la cartiera di Cassignano che oggi è la più grande cartiera che c'è in Italia. È stato un percorso dal 2004 fino ad oggi. Avendo due figli per me era determinante che loro vedessero e partecipassero a un progetto importante come mio padre aveva consentito a me di farlo. La prima volta che sono stato in una cartiera mi ha portato mio nonno e avevo sette anni. Mi illustrò tutto il processo produttivo. Per me fu un'esperienza unica perché non avevo mai visto macchinari così grandi. Dentro di me ci sono dei ricordi che se chiudo gli occhi mi vengono in mente, quale l'odore della cellulosa mischiata con l'acqua e anche il rumore della macchina continua. Qualcosa che hai dentro di te è difficile da ricostruire e da raccontare anche. Essere permeati dalla cultura della carta, amarla profondamente, sentire la passione che avvolge tutti noi nella voglia di continuare questo mestiere. L'esempio, la cultura del lavoro, le responsabilità, il rapporto con le persone, anche il prendersi cura delle persone è sempre stato trasmesso. Quindi credo che sia stato naturale sentirsi la responsabilità di cominciare a far parte di questo grande progetto che si chiama Cattiere Ferrara. La possibilità di tagliare il traguardo dei 150 anni era una molla molto importante. Per questo è in realtà che siamo partiti di nuovo. 150 anni, un traguardo veramente importante per la nostra azienda. Oggi abbiamo manager che coprono funzioni primarie, quindi lo vediamo bene, lo vediamo con grande fiducia. Il mio desiderio è quello di farla durare ancora molto e portarla avanti nel tempo insieme alla mia famiglia. Io con mio fratello abbiamo questa responsabilità. Più che portare avanti è essere parte di qualcosa che è stato, qualcosa che è e qualcosa che sarà. Il futuro è sempre nelle nostre mani, non è nelle mani degli altri. Quindi il futuro di Cattiere Carrara dipenderà molto da quanto i miei figli sapranno essere leader, guadagnandosi la fiducia e il rispetto dei propri collaboratori. Grazie a tutti.